Siamo con Andrea Puicher Soravia, selezionatore della squadra di comitato femminile di Sci Alpino. Allora, Andrea, opera come ti conoscono tutti. Cosa ci aspettiamo da questa stagione? Beh, ci aspettiamo dei bei risultati con le tre ragazze della squadra A, che sono Stocco, Pinto e Polentarutti. Sono tre ragazze che possono fare molto bene il circuito nazionale. Diciamo che abbiamo i campionati italiani giovani in casa, discipline veloci, sulla sella nevea, quindi con Pinto e Stocco cercheremo di portare a casa un podio, possibilmente, oppure un buon risultato nelle 10 o 5. Abbiamo sempre il gigante ad alleghe giovani, dove è una pista molto tecnica e sicuramente la Polentarutti può difendersi bene. Abbiamo le altre ragazze della squadra che stanno crescendo e quindi anche da loro ci si aspetta dei bei risultati nelle 30. Tra l'altro, proprio all'inizio della prossima settimana c'è un raduno importante, no? Sì, adesso lunedì partiamo, andiamo a Intertux, è il primo raduno sugli sci, fino adesso abbiamo lavorato atleticamente con Bruno Anzile e adesso è ora di mettere gli sci e vedere un po' come si stanno difendendo, come approcciamo bene verso la stagione. Durante l'estate, ovviamente, soprattutto atletico, con un'esperienza particolare a Moimacco. Siamo andati a fare acrobatica con Freddy Romano, molto bravo come istruttore, quindi gli ha insegnato a stare in aria, a fare dei salti sulle reti elastiche, è stata una bella esperienza per le ragazze dove si sono anche divertite. Pera, quando vedremo una nostra ragazza nelle squadre nazionali? Speriamo presto, diciamo che l'anno scorso siamo andati vicino con la Stocco, speriamo di fare una bella stagione con queste tre ragazze della squadra A e una di queste metterle a metterle in squadra.